buonasera a tutti oggi faremo dei cristalli di zucchero per fare cristalli di zucchero vi servono 200 ml di acqua 600 grammi di zucchero degli stecchini da spielini tipo degli stecchini un po lunghi io ho tagliato a metà dei stecchini da spielini dei bicchieri e delle mollette da bucato per prima cosa bagnate gli stecchini e poi infilateli nello zucchero come seconda cosa sciogliete lo zucchero con l'acqua portando la soluzione ad evoluzione quando lo zucchero si sarà sciolto del tutto potete spegnere la fiamma e lasciare a riposare per 10 minuti passati 10 anche 15 minuti distribuite la soluzione di acqua e zucchero nei bicchieri a questo punto potete anche aggiungere qualche goccia di colorante per alimenti per fare dei cristalli colorati aspettate 45 minuti che si raffreddi un po quando si sarà raffreddato inserite gli stecchini fermati con le mollette lo stecchino non deve toccare la parete e non deve toccare il fondo quindi aggiustatelo per all'altezza giusta da questo momento in poi non spostate più i bicchieri potete coprire con una pellicola per evitare che prenda la polvere dopo un giorno già si può notare che i cristalli di zucchero stanno crescendo dopo sette giorni ecco i nostri cristalli di zucchero ora qui si è cristallizzato anche abbiamo dei cristalli anche sulla superficie e quindi li possiamo andare a rompere con un coltello e poi li mettiamo ad asciugare su un piattino ecco ecco Grazie a tutti